Ciao ragazze, ecco a voi con un altro video e questo è un video di richiesta una nail art con i colori fucsia, verde e oro come corrente allora, come un corrente ci vuole un gelo smalto fucsia, un gelo smalto verde un gelo smalto oro ecco a voi la mia idea spero tanto che comunque vi piaccia e come sempre potete scegliere se farle su tutte le unghie o su una sola vostra scelta come prima cosa prendo il mio color oro e il mio color viola sono tutte e due della linea Bushman dimenticavo anche il mio color verde sono tutti della linea Bushman allora io cosa faccio? prendo il mio color verde e comincio a delineare la French la faccio proprio bassa perché combinerò più colori insieme come al solito poco prodotto in punta lo stendo molto bene dopodiché prendo il mio colore viola anche in questo caso diciamo che continuo la French sotto il mio color verde in questo modo sempre poco prodotto perché non ce ne deve essere tanto e stenderlo molto bene ad ogni passaggio metto il lampada poi cosa faccio? sgrasso se volete fare un decoro del genere dovete sgrassare prendo il mio gel oro e comincio a fare questa specie di ghirigori chiamatele come volete tra un colore e l'altro come se delineasse proprio lo stacco dei due colori anche in questo caso dopo metto il lampada se usate gli smalti invece potete asciugare all'aria per abbellire un po' faccio queste specie di virgolette io uso lo spot per farle però potete benissimo utilizzare anche un pennello punta zero lo faccio giusto per abbellire un attimino il tutto questo è il risultato finale della mia idea spero che vi piaccia spero che la ragazza che ha maquiasso una nail art con la combinazione di questi colori vi sia piaciuto e niente se avete domande fatele al prossimo video ciao